Arriva la raccolta differenziata anche nei cimiteri comunali, un nuovo passaggio verso l'intensificazione del servizio voluto dal Comune, che attraverso l'assessorato all'ambiente ed in accordo con gli uffici tecnici ha messo a punto questa nuova strategia che sta partendo proprio in questi giorni. In base all'accordo sottoscritto con la cooperativa Il Poliedro che gestirà il servizio, saranno eliminati tutti gli attuali contenitori per i rifiuti e negli ingressi dei cimiteri saranno posizionati appositi contenitori carrellati della portata di 120 litri e più specificatamente due contenitori per la frazione verde, fiori e piante, un contenitore per la carta ed un altro per la plastica, forniti direttamente dall'ufficio ambiente per un totale di 44 raccoglitori. Tali contenitori saranno classificati in maniera da renderli di facile identificazione per l'utente attraverso apposite etichette. Per quanto riguarda la modalità operativa di svuotamento è previsto che l'operatore che apre giornalmente la struttura cimiteriale ponga fronte strada agli stessi contenitori, quindi provvederà in accordo con il servizio di raccolta differenziata allo svuotamento e dal conferimento nell'isola ecologica di Selci, infine alla loro ricollocazione al cimitero. Il sindaco Fabio Buschi invita nuovamente la cittadinanza a partecipare in maniera attiva al nuovo progetto perché dice, è nostra intenzione continuare nel potenziamento della raccolta differenziata sul solco di una tradizione sulle politiche ambientali che negli ultimi anni ha fatto di San Giustino uno dei comuni più virtuosi dell'Umbria. L'assessore all'ambiente Silvia Dini ricorda che questo intervento tende a sottolineare l'importanza che ogni giorno acquista la raccolta differenziata che parte anche da piccoli gesti. È un nostro dovere cercare di diminuire i rifiuti e dove è possibile differenziarli. Sono particolarmente contenta del comportamento dei nostri cittadini che si sono sempre dimostrati attenti e sensibili nella tutela dell'ambiente.